Ciao qui è Gio, di Seduzione Attrazione nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci avete inviato. La domanda è come poter esercitare le proprie espressioni facciali? Come hai fatto tu? Vorrei dei consigli efficaci. Allora, io purtroppo signori sapete che non posso insegnare cose diverse da quelle che ho fatto. Nel senso che, come dire, se vuoi mi chiedere, o meglio, fammi fare una premessa, ti dico questa cosa perché la risposta non ti piacerà. Ma cosa significa? Significa che se voi mi chiedeste come diventare Mr. Olimpia, non sarei la persona giusta a cui chiedere. Mr. Olimpia è una competizione di culturismo, la prima cazzata che mi è venuta in mente. Ma fondamentalmente è questo per dire che si possono insegnare cose che si sono già fatte nella pratica nel mondo reale e compagnia cantante, ok? Quindi passiamo al perché la risposta non ti piacerà. Quello che io ho fatto personalmente è stato guardarmi, però io avevo già un livello di consapevolezza sociale piuttosto elevato rispetto a una persona che agli inizi, come molti di voi sono, quando ho cominciato a fare questo tipo di esercizio. Infatti io per anni sono stato noto come faccia di gomma e poi ho cominciato a lavorare su questa roba. E in realtà questo ha enormemente amplificato i risultati, proprio perché una delle caratteristiche che effettivamente sono estremamente importanti nella seduzione è la capacità di evocare emozioni. E quindi questo si fa col colorito vocale, con le espressioni facciali e compagnia cantante, ok? Ora, tenete presente che voi non dovete diventare necessariamente degli attori per fare una cosa del genere, ok? Dovete semplicemente quanto meno essere sopra la media e tenete anche presente che ci sono persone che sono naturalmente più dotate per questa cosa. Vi faccio un esempio, quando ero a Roma, praticamente durante uno dei miei approcci, c'era questo ragazzetto che fondamentalmente, per carità, tutta la mia stima, perché per pagarsi l'università poi ci siamo messi a parlare, dopo che è successa questa cosa che vorrei se ti racconto, e lui praticamente stava vendendo quadretti che faceva lui in mezzo alla strada, approcciando a freddo, per pagarsi gli studi. Questo per dirvi il livello di volontà che sarebbe corretto avere quando si fa qualcosa che ritenete importante. In ogni caso, praticamente approccio a questa ragazza, io gliela frego. Dopodiché lo rincontro e ci mettiamo a parlare. E lui era, a livello di espressività facciale, era veramente molto dotato, nonostante non fosse un qualcosa che avesse mai studiato. E infatti il pensiero che mi ballerò nella testa è, se ce l'avessi per le mani e gli spiegassi esattamente cosa fare, in pochissimo tempo in realtà ottiene dei risultati. Ok? Tornando a noi. Quello che io ho fatto, a un livello di consapevolezza sociale già più ampio di quello che avete voi, è stato studiarmi diversi attori che interpretavano parti seduttive e a quel punto ho depatternizzato quelli che erano gli sguardi, le espressioni facciali, il modo di sorridere, di muovere i muscoli facciali, per così dire, corretti ed efficaci per quella che era la soluzione. Passo successivo è stato ingaggiare un acting coach e mi sono fatto dare un po' di dritte, dopodiché mi sono messo a provare allo specchio. Ora, purtroppo, io assolutamente se è nelle vostre tasche ve lo consiglio, l'acting coach. Però ci sono un po' di limitazioni. La prima è che un acting coach è costoso. La seconda è data dal fatto che non deve essere un corso di teatro, non perché voi non possiate far teatro, ma perché teatro vi spiega una miriade di cose che sono completamente inutili per quello che serve a voi. Nel senso che dovete imparare gli script delle commedie, dovete imparare a simulare emozioni che non vi servono per la soluzione. Nel senso che dovete imparare a simulare emozioni a 365 gradi. Per la soluzione, in realtà, ve ne servono un gruppo limitato. E quindi, fondamentalmente, io mi sono fatto coachare esattamente su quello che volevo io e poi mi sono messo a provare allo specchio, provare, riprovare, eccetera, eccetera. Ogni volta che mi facevo coachare, fondamentalmente, lo facevo con ceolare alla mano, di modo che avevo espressioni facciali del coach. E avevo anche le correzioni, le correzioni che mi faceva rispetto a quelle che erano le mie espressioni facciali. E compagnia cantante, e quindi capisci bene che questo è stato un passo in avanti. Il primo step è stato provare a casa. Il secondo step, e questo per voi, per molti di voi, sarà traumatico, o meglio, quasi nessuno di voi lo farà. Però, quello che ho fatto è stato questo. Sono andato con un mio amico, semplicemente l'amico mi serviva per sembrare meno pazzo squilibrato, e mi mettevo a provare davanti allo specchio in uno di quei maxi ipermercati dove si vengono vestiti. E questo perché, fondamentalmente, questo mi permetteva di matchare sia il fatto di provare l'espressività facciale, sia il fatto di trovarmi sotto una fortissima pressione sociale. E, non mi nascondo la verità, dal secondo giorno in poi è andato meglio. Il primo che ho fatto questa cosa, io mi sono fatto una sudata che neanche dentro una sauna. Quindi, se qualcuno mi ha messo in testa le stronzate che, una volta che diventi avanzato, esperto, quel cazzo che ho i guru, non provano paura, emozioni, compagnia cantante, questo è falso. Però, questo è un po' il percorso che io ho seguito. E, quindi, capisci che, in realtà, i consigli che ti sto dando sono efficaci, ma al tempo stesso, non so quanti di voi, effettivamente, avranno tempo, voglia e costanza di metterli in pratica. Detto questo, ora ci dovete dare del tempo, perché stiamo cercando di capire se questo potrebbe crearci dei problemi su YouTube. Una cosa che abbiamo in mente di fare, ma non vi posso promettere nulla, perché non so se la cosa va da genio a YouTube, o se questo potrebbe creare penalizzazioni e compagnia cantante, quello che vorrei fare, ma di nuovo non ve lo posso promettere, è fondamentalmente analizzarvi scene di film, perché in scene di film vi posso vi sezionare con una inquadratura in primo piano e in HD quali sono le espressioni facciali corrette, quindi questo potrebbe darvi una grossa mano. Però, ripeto, è una cosa che non vi posso promettere. Spero in futuro vi poterà fare, non lo so, detto in maniera molto franca, ok? Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.